Benvenuti in Risto Più Lombardia dallo Chef Ruggero. Oggi vi voglio presentare la fondue du roi, un prodotto che ti può aiutare a riempire i tempi morti nel tuo locale. Proponi la merenda dalle 15 alle 17 nel tuo locale. Presenta la fondue du roi, è semplicissima da preparare, in microonde per due minuti e mezzo a 700 watt di potenza oppure per 10-15 minuti a bagno maria. La fondue du roi nel suo bicchiere ingress conserverà il cioccolato alla giusta temperatura per 45 minuti. Fai una seconda infornata di croissant o mini croissant o pane nel tuo locale. Prima di tutto diffonderai un profumo irresistibile, attirerai il tuo cliente che poi derizierai con questa golosa novità. Posso prendere un croissant, aprirlo e andarlo a completare con questa fantastica fonduta. Cosa c'è di più goloso di un croissant caldo con questa fonduta al cioccolato fondente? Oppure un mini paninetto al latte, anche questo lo apro e lo vado a farcire golosamente con questa fonduta. La fonduta è disponibile al latte, al cioccolato fondente o al cioccolato bianco. La puoi trovare solo da Ristopiú Lombardia, per i più golosi e per i tuoi clienti speciali. La fonduta du roi e lanci una nuova era della merenda, solo nel tuo locale. Con Ristopiú Lombardia!